Spyro ho sentito che eri sull'isola ma non ci ho creduto devi aiutarmi un ripto continuo a chiamarmi panino o prosciutto e mi chiede se sono meglio con la sene per con la maionese oh grazie a dio sei arrivato prima del ripto immagino che non sia del tutto brutto essere un panino ma io vorrei essere servito soltanto con pane integrale e tu?